Oggi è venuta a trovarci in studio Nicoletta Frapiccini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Nicoletta è la direttrice del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, ovvero uno degli otto musei del Polo Museale Marchigiano. Dal 1958 la sede di questo museo è a Dancona ed è nel bellissimo Palazzo Cinquecentesco Ferretti. Per la ricchezza delle sue collezioni, tra l'altro è uno dei più importanti musei archeologici d'Italia. Nicoletta, proviamo a ricordare solo alcuni dei reperti più pregiati che vi si possono ammirare. So che non è facile, ma insomma... Sono molti in effetti, ma senz'altro tra i più inestimabili la Venere di Frasassi, che è un'antichissima statuetta risalente al Paleolitico, quindi 20.000 anni fa, e poi una bellissima brocca realizzata con un uovo di struzzo, che è dell'età picena e viene da Pitino di San Severino, e le magnifiche corone d'oro da Montefortino di Arcevia, la necropoli celtica. Qui e moltissime altre migliaia di materiali esposti al museo, tutti interessantissimi. Peraltro, infatti, il museo custodisce la più completa collezione di reperti piceni, credo, in Italia. Tra l'altro, dopo l'apertura recente delle sale romane, che sono state risistemate, il museo sta lavorando invece a progetti che hanno molto a che fare con la modernità. Sì, abbiamo dotato il nostro museo, e stiamo ancora, diciamo, un work in progress, lo stiamo dotando di sistemi multimediali, interattivi, schermi touchscreen, e poi QR code per poter leggere anche sul proprio tablet o sul proprio cellulare le descrizioni dei reperti, e poi una vetrina interattiva che è dedicata alla Venere di Frasassi, appunto, che, diciamo, si può osservare, ammirare e poi anche però toccare per attivare degli schermi interattivi. Peraltro, in questo progetto, lavorate assieme all'Università Politecnica delle Marche, no? Abbiamo, sì, in corso dei lavori che erano già iniziati, e quindi stiamo dotando tutto il museo di questi schermi, di questi tavoli touchscreen. E poi, però, l'Università Politecnica delle Marche, con il professor Clini, ha vinto un concorso nazionale, e in questo concorso rientra anche il nostro museo, perché ci saranno delle nuove installazioni multimediali in collaborazione con l'Università, sì. Ed è in corso, a proposito di lavori, anche un restauro molto importante che valorizza il palazzo, la sede in sé. Sì, perché effettivamente la dottoressa Claudia Caldari sta dirigendo il restauro dei dipinti di uno dei saloni più belli di Palazzo Ferretti, dipinti attribuiti a Zuccari, e che stanno rivelando, insomma, molti aspetti inediti. E quindi è molto interessante, speriamo di poterlo valorizzare come merita, perché è un dipinto che sta rivelando molte cose particolari. Peraltro il museo è anche, così, meta di iniziative davvero singolari, ad esempio, recentemente, un matrimonio. Gli sposi hanno deciso di invitare, insomma, di donare agli invitati una visita al museo. È stata una bella iniziativa? Una bella iniziativa perché non solo il museo può essere una location straordinaria per questo genere di eventi, ma la cosa che ci è sembrata molto bella in questo caso è che gli sposi hanno voluto condividere condividere con i loro invitati, con i loro amici, con i loro parenti, questa bellissima visita, questo bellissimo giro al museo con una descrizione anche dei reperti. Hanno voluto proprio una visita guidata che noi abbiamo fatto molto volentieri, naturalmente. E sono diverse comunque le iniziative che il museo propone, soprattutto d'estate, no, Nicoletta? Sì, ora partirà, come sempre, ormai da molti anni, partiranno i consueti appuntamenti serali e estivi. Ci sono vari appuntamenti già previsti. Per esempio, la dottoressa Claudia Caldari ci spiegherà, appunto, quello che sta emergendo da questi affreschi che stanno ricomparendo. E poi verrà l'ingegner Beste dell'Istituto archeologico germanico di Roma a parlarci di anfiteatri, oltre che del nostro, di cui si sta occupando anche del Colosseo e di altri anfiteatri che ha studiato. E poi, insomma, dovrebbe avere tante iniziative, tante occasioni. Peraltro le aperture festive dell'anno scorso hanno dato grandissimi risultati, per cui si ripetono, quando le prossime aperture, gli appuntamenti sono vicini oramai? Sì, perché una imminente, quella del primo maggio, dove ci occuperemo di quello che accade dietro le quinte del museo. Che cosa, chi lavora al museo, visto che è la festa dei lavoratori, e che cosa accade dietro a quello che è, un po' il backstage, diciamo, del museo. Il museo, peraltro, è stato aperto anche il 25 aprile, dunque prossimo appuntamento al Museo archeologico nazionale delle Marche per il primo maggio. Noi salutiamo e ringraziamo la nostra ospite. Grazie. Grazie a voi. Grazie per aver iniziato la giornata con noi. Grazie a voi.